Buona domenica a tutti ragazzi, buongiorno a tutti, allora ieri c'è stata la partita del Napoli, la partita dell'Inter oggi vedo, ho visto qualche video tra interisti napoletani ieri, tra ieri e oggi ho visto soprattutto perché ad esempio Donato può stare in culo non lo sopporto quando vede con i paraocchi contro di noi vabbè ci sfotte, quello ci sta però quando fa passare dei messaggi che secondo me sono sbagliati però quando parla esclusivamente di calcio ragazzi è un piacere ascoltarlo e ieri mi sono visto 17 minuti di un suo video nel quale mi sono trovato totalmente d'accordo con lui cosa che altri interisti non mi danno insomma questa sensazione, questa impressione di sapere così tanto di calcio e non lo dico per leccare il culo anche perché sennò metterei appunto nel titolo il suo nome, cognome o appunto nei tag, lo dico tanto perché comunque non vedrà mai questo video e insomma comunque non mi prenderò le visualizzazioni sue ma nei miei video parlo di altri youtubers senza per forza citarli nel titolo o appunto nei tag per fare visualizzazioni detto questo allora veramente come si giudicano le partite al giorno d'oggi soprattutto qui su youtube veramente bastano, basta un gol, un gol basta perché i napoletani sono già tutti esaltati ormai va tutto bene l'importante è vincere, no? quest'anno è così l'anno scorso il bel gioco di Sarri, quello e l'altro quest'anno l'importante è vincere però vedendo queste prime partite e sapendo le potenzialità di tutte le squadre tra la Juventus e tutte le altre che si dovrebbero giocare il titolo ripeto come dico da tanti anni a questa parte quest'anno più che mai possiamo perdere lo scudetto solo noi quindi se lo perdiamo è perché siamo stati al 99,9% colpevoli noi 0,1% merito degli altri ma veramente vedendo ok siamo solo alla quarta partita c'è tanto da migliorare da una parte e dall'altra però ripeto guardando un po' in prospettiva insomma non penso di dire un'eresia se dico appunto che la Juventus può perdere lo scudetto più che altro più che le altre più che altro vincere vincere lo scudetto appunto vabbè comunque a parte questo gioco di parole scusate allora allora perché dico questo? perché il Napoli è appunto ha vinto 1-0 contro Fiorentina ma ha creato poco ha creato poco cioè se non ci fosse stata quell'invenzione di Milic per insegna il gol ok con i secoli umano si fa un cazzo però tanto per dirvi che io preferisco una squadra che mi crea e magari sbaglia qualcosina ma in futuro mi fa stare più sicuro più sereno quella squadra lì ovviamente se la Juventus è meglio rispetto ovviamente comunque bisogna bisognerebbe migliorare il fatto di concretizzare i davanti perché se sbagli troppo c'è un qualcosa che non va Icardi ad esempio non va comunque questo è un altro discorso a me non piace lo sapete non piace per niente come giocatore e vabbè poi appunto da una parte i napoletani si esaltano per un tiro un gol cioè vabbè non hanno fatto un tiro però due o tre tiri la Fiorentina chi è che ha vinto ieri tra Napoli e Fiorentina? la squadra che ha fatto meno schifo non è la squadra che ha fatto meglio dell'altra la squadra che ha fatto che ha giocato meglio no la squadra che ha fatto meno schifo il Napoli ha meritato la vittoria per questo tutto lì ma la Fiorentina non ha cioè ha rinunciato a giocare già dall'inizio e facendo così a San Paolo contro il Napoli prima o poi il Napoli ti caccia il gol anche se non crea se non crea 20 palle golle però ti caccia il gol e ieri è stato così e ripeto il Napoli comunque non mi ha dato la sensazione di dominare la Fiorentina ha avuto qualche palla gol in più però non ha dominato come gli anni scorsi ok ripeto l'importante è vincere piuttosto che appunto giocare bene perché comunque questo discorso del giocare bene bisogna mettersela un po' mettersela un po' via perché la squadra una squadra che vince soprattutto a 7 anni in fila difficilmente gioca male e qua Allegri secondo me ha ragione dall'altra parte appunto da una parte i napoletani si esaltano senza criticare la squadra perché io faccio questo per questo io adesso non voglio esaltarmi da solo però per questo io penso sia un mio pregio che o che si vinca o che si pareggi o che si perda ok io se c'è da criticare critico pesantemente quasi facendo passare in secondo piano pure il risultato anche se è una vittoria perché bisogna analizzare per il futuro non per il presente è quello che alla fine differenzia la Juventus dalle altre squadre che le altre squadre e le altre tifoserie guardano tanto al presente la Juventus invece guarda molto al futuro quindi soprattutto noi tifosi alla fine quindi se io vedo una partita vinta ma che non mi è piaciuta per l'atteggiamento per altre cose per sistemi per passaggi sbagliati per troppi sbagli in generale lo dico e faccio passare in secondo piano pure la vittoria invece i napoletani basta un gol un tiro un gol perché se ieri il Napoli avesse pareggiato non aveva rubato nulla la Fiorentina ripeto ma ma soprattutto avremmo sentito oggi i napoletani gli stessi napoletani che adesso esaltano la vittoria e il Napoli molto critici che offendevano soprattutto vabbè De Laurentiis però allora quando vince il Napoli in merito di Ancelotti quando il Napoli perde visto contro la Sampdoria a Genova non è colpa di Ancelotti cioè qua si sta i napoletani stanno facendo un po' la stessa cosa degli juventini vedo vedi Conte vabbè comunque a parte questo o comunque Allegriani perché il problema del tifoso medio è che deve schierarsi da una parte da una parte non riesce a giudicare a criticare o a elogiare appunto guardando quello che ha visto appunto quindi analizzando quello che ha visto deve comunque schierarsi da una parte all'altra questa cosa a me non è mai piaciuta vabbè questo per quanto riguarda il Napoli dall'altra parte la partita dell'Inter non l'ho vista levando gli episodi arbitrali ok il problema ho visto l'Inter ha creato molto e il problema lì è il contrario gli interisti vogliono la testa ai spalletti molto offensivi critici verso appunto la squadra verso la società verso questo verso l'altro però lì se Di Marco non si inventa il gol del sabato ieri e se l'Inter concretizza quelle palle gol che ha avuto o quantomeno almeno una o due va bene adesso stiamo parlando di un Inter vincente contro il Parma e tutti questi ripeto con i secoli ma non si fa un cazzo lo so e il risultato è quello che conta però tanto per farvi notare che alla fine il risultato molte volte molte volte condiziona anche ingiustamente diciamo così il giudizio del tifoso alla fine infatti così è stato anche per quanto riguarda l'Inter e gli interisti perché ieri ripeto l'Inter ha dominato poi quando una squadra merita di vincere pareggiare o perdere questa cosa lo dice il campo perché se l'Inter ieri ha perso evidentemente ha meritato di perdere perché non ha concretizzato le palle goal e il Parma invece ha concretizzato magari l'unica palla goal da 35 metri ok però però è giusto dire che appunto l'Inter ha meritato di perdere però è altrettanto giusto dire che alla fine il tifoso medio si fa condizionare secondo me troppo da un goal o non goal e non riesce a fare il critico in maniera giusta sulla partita in sé assumere un messaggio ovviamente comunque questo è e questo volevo dire analizzando le due partite Inter-Parma l'Inter che crea il disastro e perde 1-0 contro il Parma in casa e dall'altra parte il Napoli che fa fatica a creare una palla goal due palle goal tre palle goal e poi vince e porta a casa appunto la vittoria vincendo 1-0 contro la Fiorentina e di là invece i napoletani che già si esaltano un po' come l'anno scorso che poi quando cantano che poi altra cosa aspettate Caleon e Mertens sono due giocatori odiosi come lo è con l'Ibali perché ieri veramente questi tre giocatori Caleon ha tirato la palla addosso a un giocatore per terra della Fiorentina Mertens ogni volta che ha un contatto qualcuno lo tocca sto qua si butta come se non ci fosse un domani e Caleon usa le mani cattivo forse Chiellini ok oggi staremo leggendo cose allucinanti richieste di prove tv di squalifiche di ergastoli invece Caleon è un giocatore del Napoli va bene a tutto ok che ripeto Caleon e Chiellini sono molto simili come giocatori infatti a me non piacciono nessuno dei due comunque questo è alla fine il risultato purtroppo condiziona troppo troppo cioè può condizionare fino a un certo punto ripeto abbiamo vinto 1-0 perfetto però c'è molto da migliorare e c'è molto da criticare in questa partita qui e allora quello lo accetto mi prendo i tre punti e va bene però da qui a dire abbiamo vinto 1-0 abbiamo fatto una grande partita abbiamo messo sotto a Fiorentina abbiamo questo abbiamo l'altro sono contento per appunto la vittoria abbiamo strameritato quello e l'altro ce ne passa perché un conto è prendersi i tre punti e poi fare una critica costruttiva anche pesante sulla vittoria che però magari non è piaciuta un altro conto è prendersi sì la vittoria ma far passare più che altro questa vittoria come se fosse una cosa dall'altra parte è viceversa l'Inter ha perso 1-0 contro il Parma creando tanto di più rispetto al Bologna ok e invece la fanno passare come spalletti perché se allora se Icardi butta dentro un pallone se Keita butta dentro l'altro pallone oggi non sentiremo neanche una critica a spalletti che cazzo di colpe ha spalletti se i giocatori dell'Inter sbagliano i gol o no ecco detto questo ragazzi io vi auguro buona giornata a tutti ci vediamo dopo per il post partita di Juventus Sassuolo e vediamo e speriamo di continuare con insomma ad essere a punteggio pieno ecco un saluto a tutti e fino alla fine sempre e comunque forza Juventus